mamma saluta siamo online ciao 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 benvenuti o bentornati su monica blog questo video lo dovevo fare da sola ma siccome la mamma è qui che si annoia si sta annoiando allora siccome avevo da farvi vedere i vestiti che ho preso per lei ve li faccio vedere insieme a lei lei non l'ha ancora visti non sa neanche che glielo prese che ora gli si fanno vedere i vestiti che ho preso capito non li fai vedere lì no te li faccio vedere dal vivo e loro che loro quando guardano il video ti vedono allora il primo vestito che ho comprato su shim per la mamma è questo vestitino qui è un vestitino per stare in casa e la mamma gli ho preso la 3xl guarda un pochino se ti garba guarda un po per stare in casa ecco ma anche per uscire guarda vellino te lo infili è nero tutto in tinta unita con le manichine fantasia è corto che non ti dà noia che non lo senti lungo te lo puoi mettere e non c'è la dura affatica ti infili questo senza avere ovviamente leggero la mamma è un pochino per quando è un po meno freddo eh guarda un po ti garba si si mi garba si si mi garba vedi è un vestitino ultero se poi è lungo ci si fa un orlo è lungo è lungo è lungo e questo qui da portarsi quando ma questo perché non è freddo te lo puoi mettere anche ora con una maglina te lo infili invece che mettere la maglia con la donna ti metti il vestitino intero ti piace sì sì questo è per ora non è lungo per me secondo me non è lungo però se lo vuoi si accorcia ci si fa un orlo eh che fai ti alici certo certo ma non è che ora ti spogli davanti a loro che ti guardano vero te lo provi davanti così sì sì mi spoglio mica no vai via vedi dove ti arriva quando te lo tiri su ti arriva qui sotto il ginocchio secondo me non è lungo poi a casa te lo provi con calma eh va bene sì ma ora ti faccio vedere quell'altra cosa che ti ho preso sì questo qui va scorciata eh sì ti rimetti a cecce vai rimetti a cecce poi ho preso un altro vestitino quasi uguale a questo qui sempre per stare in casa o anche per uscire perché insomma è decente anche per uscire e questo è uguale a quell'altro però invece che i fiorellini sulle maniche c'è il fuà bellino è nero con le manichine con fiori acqua bianchi mamma il nero smagrisce un po' è uguale a quell'altro vedi guarda vedi questo è corto ti arriva al ginocchio vedi guarda un po' sì piace più questo che di quell'altro eh ti piace più questo comunque anche quell'altro per stare in casa va bene sì va bene ti guarda più col fuà che con i fiori eh ti piace più con i fuà che con i fiori è lo stesso poi te l'ho preso anche per l'estate ora è presto questi qui eh te l'ho preso per l'estate c'era gli sconti e allora dove li hai presi? su Shein eh? su Shein è un sito su internet guarda bellino questo qui è un vestitino sempre per stare in casa per l'estate vedi con la mezza manichina bellino fresco c'era gli sconti perché hai preso questa roba? per te? sì dicevo ma perché? hai preso ora per l'estate perché era sconto dove? su questo sito si dicevo ma dove l'hai comprato? su internet ah su internet su internet vedi siccome era sconto quando trovo le cose che mi garbano e prese bene te l'ho preso questo qui anche d'estate per starci in casa senti come bellino fresco senti come leggero poi va bene per l'estate eh aspetta si guarda di cosa è fatto eh questo qui è sembrava cotone invece no? poliestere è poliestere se a sentire sembrava cotone eh? però sentirebbe bellino fresco poi bellino largo guarda si e su che per starci in casa ci sta proprio comoda l'estate sta a fiori con le rose e poi se ne ho preso un altro sempre da estate perché costavano proprio pochino questo è senza maniche mi sa uguale a quell'altro che ci avevi che l'hai portato tanto vedi questo è proprio un prendisole eh? è di stile tropicale guarda bellino anche questo per starci in casa si ma anche per andare fuori si certo se c'è da andare alla botella ma è lunga però eh è lunga però non è lunga comunque se è lunga poi si accorcia è lunga però guarda la taglia è la tua che stai giù dove l'hai presi? sì 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 via pigarmene allora noi questo mini owl curvy l'abbiamo finito eh mamma? cosa? no eh perché la mamma non lo sa cosa vuol dire mini owl curvy che poi è owl si dice owl ho fatto un video dove faccio vedere le cose che ho comprato ah è un video che ligava alle persone vedere cosa si compra cosa si fa mh capito? ora poi questo qui lo metto sul canale le persone ci vedono mh e poi ci salutano ci lasciano i commenti capito? no 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 non hai capito? non hai capito? anche la mamma ancora non ha capito cosa faccio io su internet è vero? eh? hai capito? insomma così e così così e così via ciao a tutti proprio un video corto 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 ciao